Ciao a tutti e bentornati sul mio canale Michael McClams. Allora, in questo video, che ci ho messo un pochino di tempo per pensare come articolare il discorso, vorrei fare una riflessione sul Recovery Fund che l'Italia avrebbe accettato e che quindi garantirebbe questa cosiddetta pioggia di denaro al nostro paese di 172 miliardi di euro. Su 750 miliardi trovati, stanziati dall'Unione Europea con il Recovery Fund, 172 andrebbero all'Italia. È una cifra enorme, grandissima, enorme. Ma dove sta la cosa che preoccupa? Che di questi 172, 90 sono da restituire a lungo termine, è un prestito. E la cosa? E gli rimanenti 82 sono a fondo perduto, a patto che tu garantisca e dica all'Unione Europea come li spendi. E qui, e qui io sono un po' critico, sono d'accordo con Salvini e Meloni. Ripeto, non perché io sia un tesserato fratelli d'Italia, perché hanno ragione. Ha ragione Salvini perché dice se come sembra, perché va detto una cosa, sarebbero disponibili dal 2021 i soldi. Siamo in 2020, a metà anno, dobbiamo aspettare sei mesi per avere i soldi. Da qui a sei mesi possiamo essere tutti morti di fame. Chiusa a parete. Il fatto che Salvini dica, va benissimo, però i soldi servono adesso, ha ragione. Come pure la Meloni che dice, disponibili dal 2021, una parte vanno restituiti, abbiamo già un debito enorme di 100 miliardi, di 60-70 miliardi di euro per queste manovre, decreti salva Italia, decreti decretini, di PCM decretini e vari, ancora ci andiamo a caricare il debito. Come mai si dice sempre di noi bond? Gli euro bond garantirebbero una liquidità immediata e un debito suddiviso tra tutta l'Unione Europea, che ovviamente non ha alcun interesse a caricarsi il debito della mafiosa Italia, come viene definita dall'Olanda. Quindi io vedo che c'è un po' di fascismo all'interno della... vedo molto fascismo e molto comunismo all'interno dell'Unione Europea, mi spaventa queste cose. Mi spaventa perché... insomma... vedo che evidentemente i problemi non sono di certo... non è di certo la cosiddetta destra europea, della Le Pen, o di che so io, di Orban, o di Kurz. I problemi della carenza di democrazia in Unione Europea sono dati dalla Banca Centrale Europea. L'ho già detto e lo dirò in altri video, queste cose. E quindi credo che si debba riflettere sul fatto che questi recovery fund, altro non è che un espediente di una parte dell'Unione Europea, di comprarsi la fiducia e la paura dei paesi più disgraziati. Ora, la Grecia fece un falso in bilancio per rimanere in Unione Europea, l'hanno sgamata e si sono vendicati fin troppo duramente, imponendo la Troica, imponendo un Parlamento fantoccio, in pratica un commissariamento all'Unione Europea. L'Italia può rischiare sì il default, però si sta comportando in modo molto leale con l'Unione Europea, quindi non credo che potrà essere castigata, ma che si potrà vedere costretta a dover fare dei compromessi con gli stati più forti dell'Unione Europea perché non sarà in grado di pagare questo debito. Perché sia il MES che, ripeto, l'Italia versa, non so, 100 milioni, non mi ricordo se 100 miliardi, 110 e ne retornerebbero 35, è svantaggiosa per l'Italia. In più, con condizioni che, vabbè, verrebbero azzerate, data l'emergenza, però comunque non ci potrebbe rientrare perché è un debito superiore al 2% del PIL. Ma anche tanti altri paesi europei ce l'hanno, ma non lo dicono. L'Italia è un po' più onesta che dice qual è il suo reale debito. E quindi, se mi pare, più del 2% del PIL di debito non puoi accedere al MES pur versando la quota che devi per legge europea versare. Quindi è una cosa capestre. Chi difende il MES non vuol bene all'Italia e questo, il recovery fund, è un po' meglio, un po' meno capestre, per carità. Però una parte di questi soldi, i 90 miliardi, vanno restituiti. vanno, bisogna, ci vuole un po' più di forza, un po' più di alleanze strette, di meno paraculismi, no? E cercare di convincere l'Unione Europea a darti la scelta o recovery fund o gli euro bond. L'euro bond non vuole il mondo germanico perché sono, no? Sono super nazioni, noi il debito di quei terroni d'Europa non ce lo prendiamo, sono razzisti, sono nazionalisti, sono sovranisti, punto e basta. Il sovranismo si vede qua. Cos'è il sovranismo? Quali sono gli stati sovranisti? Kurz, vassallo della Germania, Germania, L'Olanda, Belgio, Lussemburgo, dove hanno sede le grandi banche, le grandi finanziarie, i grandi traffici di diamanti che sono tutti, passano tutti di lì, no? Le banche, le finanziarie, le società offshore, tutte queste varie cose, hanno sede in questi paesi qua, sono paradisi fiscali, il cosiddetto Benelux. E questa gente non vuole lavare i panni sporchi degli altri paesi, per carità. Ideologicamente possono anche avere ragione, economicamente no, perché se fai parte di un'unione di 27 nazioni è come se fosse una SNC. Se un socio mangia, tutta l'intera società per stare in piedi deve coprire il socio. Invece qua si tratta di una SRL, la responsabilità limitata, dove tu rispondi solo del tuo. È un'unione di comodo, ma questo lo si vede adesso come lo si è visto con certi protocolli del clima, piuttosto che di certe posizioni a livello industriale, a livello bancario, a livello... Si vede dove l'Europa è unita e dove non la è. La è unita sulle questioni più astratte, il razzismo, più morali. Ecco, sulle questioni morali sì, sulle questioni etiche un po' meno, sulle questioni economiche ciascuno si fa i cazzi propri. La Brexit non ha insegnato nulla ai grandi dell'Unione Europea e secondo me qualche altro paese c'è il rischio che se ne vada. L'Italia è uno di quei paesi che con le giuste alleanze, con le giusti appoggi, può portare fuori oltre a se stessa altri paesi. Non lo farà perché non ha il carattere per farlo l'Italia. Ma c'è il rischio di un'Ital Exit a livello blando, ma questo è un rischio che si comincia a ventilare. Adesso vedrò di raccogliere un po' di idee, di sentire. Poi vedrò di parlare dell'Ital Exit che cosa potrebbe rappresentare per l'Italia. Secondo me l'Unione Europea ha detto bene in una di queste, non so se l'altra sera, non lascerà mai andare via l'Italia perché ha troppo bisogno dell'Unione Europea di noi. E quindi sono tranquillo che secondo me se alziamo un po' la voce ci considereranno un pochino di più. Quello di avere imposto già di non di non accettare il MES e di fare di tutto perché il MES non venga attivato io mi auguro sia una vittoria dell'Italia che possiamo cantare vittoria. Fieri il momento è una mezza sconfitta ma è anche una mezza vittoria. perché intanto una parte di soldi a fondo perduto li hai ottenuti. Però la disponibilità agli eurobonti li darebbe subito e invece qua si parla del 2021. Questo non va bene. Chi difende questo secondo me è un po' ingenuo. Certo è un buon risultato a livello economico di aiuto però serve adesso non nel 2021 perché se io non posso pagare le tasse adesso quelle che non prorogano e le pago i tributi locali li pagano nel 2021 mi fanno una multa. Se io ricevo una multa e non la pago dopo 60 giorni il tribra doppia quindi non va bene l'atteggiamento dell'Unione Europea non è così che si affronta l'aiuto a certi paesi in difficoltà che poi ripeto l'Italia non sia affidabile per la corruzione per la mafia per carità ci sta anche il giudizio negativo che ti può dare parte dei paesi europei più più ligi più più impostati ecco più composti però fa parte della nostra cultura dei tempi di Giulio Cesare guardiamo Cleopatra guardiamo Giulio Cesare con Cleopatra guardiamo Marco Antonio Antonio Cleopatra la tragedia di Shakespeare che si rifà alla vita di Marco Antonio Cleopatra gli scandali i giochi di potere che si porta avanti da duemila anni quindi non è che ci sia da stupirsi se il sistema romano è rimasto è rimasto in voga è rimasto in uso nel nostro paese fa parte del nostro tra virgolette folclore e questo chiaramente a paesi più germanici più 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 seri più impostati più più seriosi non va bene non accettano non sono flessibili si vede Kurz i capelli tutti tirati indietro che sembra un ducciotto un hitlerotto poi alla fine probabilmente è molta immagine in Austria c'è ordine ma c'è anche c'è ordine ma c'è c'è dimocrazia in Italia c'è questo atteggiamento di faldi di finta di finta transigenza politica che in realtà sono tutti giochi di palazzo e questo non è di certo un punto che va a favore dell'Italia in rapporto quando si confronta con l'Unione Europea dove in linea di massima c'è un po' più di serietà perlomeno esteriore se fanno i misfatti sono talmente furbi da non farli alla luce del sole l'Italia è un po' ingenuotta è un po' più trasparente si è visto col coronavirus che è stata subito isolata alla fine poi hanno un pochettino capito che l'Italia tutte queste torti non le aveva adesso ci immaginano perché non si riesce ad arrivare a contagi quasi a zero e questo fa ancora paura c'è ancora reticenza c'è ancora pregiudizio in Unione Europea nei nostri confronti ma perché la nostra classe politica è debole non è in grado di far capire che bloccare il turismo come stanno facendo nei confronti dell'Italia e non permettendo all'Italia di andare fuori è gravissimo ma questo non posso dirlo adesso è un altro argomento l'ho già detto che il turismo va affrontato in maniera diversa è chiaro che così non va bene quindi speriamo soltanto che questi soldi che si riesca insistendo ancora a convincere l'Unione Europea a fare gli eurobond ma purtroppo devo 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 riconoscere che probabilmente l'atteggiamento di Forza Italia anche se è difensivo nei confronti dei grandi poteri forti forse è quello che attualmente ha avuto ragione Berlusconi ha capito che più di quello non si riesce a ottenere che gli eurobond non li daranno mai e che se non accetti questo non ti danno neanche questo e sarebbe un grave pericolo per il nostro paese io credo che l'autarchia non sia possibile in questo momento per l'Italia ma anche per gli altri paesi europei hanno ragione Salvini e Meloni a essere titubanti e perplessi e lo sono anch'io e do ragione ma non posso dire che Berlusconi abbia tutti i torti perché purtroppo l'Unione Europea si è vista molto reticente nei confronti del nostro paese e nei confronti di quei paesi che si sono posti al MES allora in alternativa al MES ha detto se riuscite a starci dentro a questo noi vi diamo dal 2021 questo anche il MES lo attiverebbero adesso ma i soldi sarebbero disponibili a fine anno non prima di ottobre novembre ed è comunque l'accordo che se non stai dentro attivi il MES ti inculano lo stesso l'Eurobond non gli va bene perché non vogliono ripeto prendersi i debiti degli altri paesi è vergognoso l'atteggiamento è reticente è ostruzionista ma purtroppo non vedo non vedo una via di uscita l'Eurobond non li concederanno mai è inutile è inutile è una battaglia persa e bisogna accettare quello che ti passano farsi valere al momento di pagare gli interessi la mia paura quella che è anche dei fratelli d'Italia e della Lega è che se tu non riesci a pagare come dice speriamo che si sbagli i sgarbi che fa parte del gruppo misto di destra ma fa parte centrodestra ma fa parte del gruppo misto che non debbano svendere i musei le opere d'arte come ha fatto la Grecia i porti gli aeroporti perché sono infrastrutture di e beni di importanza strategica che che non vanno toccati speriamo bene che non si arrivi a questo detto ciò io vi saluto vi ringrazio e vi do appuntamento al prossimo video ricordatevi sempre il like la campanella ed iscrivervi al mio canale ciao ciao ciao